Allora, senti un attimo solo, vorrei, il mio, potete mangiare il mio favore la foto che è di una foto in esclusiva? Guardate questa foto che gira, guardate, hai capito? Hai capito? La foto di lì, quindi, la data di oggi, naturalmente, di Taranto, che ha già, come vedete, incontrato, da te prima, di una riflita. No, la foto è una riflita. No, la foto è una riflita. No, la foto è una riflita. trovo, mi chiede un po' di sapere, ma non andavo in vero, ecco qua, questo lo mettiamo qua e dopo lo metteremo, allora ti ricordi per montare gli albumi e gli albumi, ho più pesante, ho pure un po' di pesante, allora, ho fatto tutto la chiave con il sale, tu cosa fai, io qui adorare luce, aspetto di me si scanderà, il tempo che si scanderà, poco si è la temperatura, una buona regalata, va portare l'amore, benissimo, grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.